Se anche voi come milioni di spettatrici vi state chiedendo che succede dopo che Anastasia Steele lascia il bel Christian Grey davanti alle porte dell'ascensore di casa sua, beh sappiate che i due protagonisti della saga erotica tratta dal romanzo a luci rosse di E.L. James stanno ininterrottamente girando da marzo scorso affinché la produzione rispetti le date di uscita di 50 sfumature di nero e di rosso. Le riprese dei due attesissimi sequel che vedono ancora protagonisti Jamie Dornan e Dakota Johnson dovrebbero concludersi a giugno per poi far uscire 50 sfumature di nero il 10 febbraio 2017 mentre 50 sfumature di rosso il 9 febbraio 2018. In entrambi i casi come è successo anche per 50 sfumature di grigio siamo convinti che in prossimità di San Valentino nuovi capitoli tratti dal best seller da 125 milioni di copie vendute in tutto il mondo saranno agevolati al box office. Vogliamo far presente che sul set di 50 sfumature il clima non è proprio rilassato come invece dovrebbe essere perché Jamie Dornan e Dakota Johnson siano invogliati a sembrare coinvolti e naturali nelle scene ad alto tasso erotico. L'attore infatti alle prese con una situazione familiare poco stabile mentre l'attrice figlia di Melanie Griffith e Don Johnson ha dichiarato di essersi annoiata a stare sopra al collega per 7 ore di fila. In più come se non bastasse il tempo molto piovoso ha reso impossibile girare alcune scene fondamentali. Insomma se questi due film sanno proprio da fare e lo diciamo con il massimo dell'ironia che almeno il supplizio sul set finisca presto.